dai 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 Che amico, qual è che c'è? Che ci faccio qua? Oh, buongiorno. Luca Cigarini, Nicola Barella. Stavamo aspettando, ragazzi. Dovevamo dare una lezione a PES 2018. Ma, a proposito, sapete che parametro avete voi a PES 2018? Controllo di palla, quanto hai? Almeno, almeno 90. Sì, nei sogni. Dai, Cigarini. Quanto mi ha dato? Guarda, ha dato 80, ha regalato. Tu, Nicolo, quanto pensi da avere? 85, va bene. Mi accontento. 77, rubati. Ne ho regalati, ma rubati. Guardi, giro, giro, Cigarini, quant'è? Sarò sui 85. No, no, molto meno. 77. Dai, dai, dai. 78, più di 5, perfetto. No, addirittura meno, ci spiace dire questo. E' ancora crescere, buongiorno, è ancora 73. Ma se controllassimo se i parametri di PES 2018 corrispondono alla realtà, cosa dite? Così facciamo vedere. La sentite? Assolutamente. Andiamo, 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 andiamo. Bene, ragazzi, adesso andiamo a studiare Cigarini e Parella per vedere se i loro parametri su PES 2018 sono confermati. Prima prova, controllo di palla. No, giuro che ho sbagliato il controllo. Ciduotto. No, no, perché non è più fia? Ma si fa come lo facci? Seconda prova, controllo di palla. Seconda prova, controllo di palla. No. 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 Soghi, poi io vado di... Terza prova, restart! Bene ragazzi, abbiamo verificato che effettivamente i valori di persa corrispondono alla realtà Per questo vi siete meritati una sfida contro di noi Cosa dite? Barcellona Cagliari? Champions League? Ce la giochiamo? Ci siamo! Dai dai, siamo carichi, siamo carichi Giuseppe è una mazza in stanzia Che proche hanno, Barella Cigarini che portano Cagliari in Champions La mettete sulla sinistra Ma mettetevi a posto, via 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 Vai! Vai! Gioca, gioca, gioca! Come è possibile? Dai, madonna, dove siamo? L'oratorio? Dai! E ancora un po' che si segniste Basta! Aspettetela voi, pulpitità Ma fai gol, Dico! E fai... Eh, Barella! Via 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 via! Il pallone è quello bianco Il pallone è quello bianco Oh raga, neanche la play raga Non fa mai gol il 18 Un giocatore che può risolvere una partita da solo Ci lancio, ci lancio, ci lancio, ci lancio Uh! Ragazzi! La ponte è quella lì! Dai, raccontami! Ottimo disimpegno, fondamentale E c'è il gol del Cagliari Tranquilli, tranquilli Che siamo ancora vivi, che siamo ancora vivi Cagliare forte No, vedi qua Risponde così alle crisi che il gioco Risponde così alle crisi che il gioco Andate a vedere quanta va di colpo di testa Via 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 No, Ron! Eh sì, tira la lì! No, no, giusto, giusto Marco! No raga, è una figata, veramente Nick, sai che sembri quasi bello qua nel gioco? Eh sì! Grazie ragazzi Alla prossima Buona scuola che c'è Grazie ragazzi della partita Sinceramente non vi avremmo dato un euro E invece ci avete battuto No, però ci alleniamo e ci vediamo alla prossima Ve lo segno, eh? Ve lo segno Magari alla prossima messi più in forno Speriamo